Io ringrazio Stefano perché ha risolto molti dei problemi che io dovevo affrontare e quindi di fatto sottoscrivo pienamente quello che ha detto e quello che aggiungerò sarà alcuni dettagli. Partirei da una battuta che ha fatto mio collega a Capodarco dove sarà riunito il racconto Cernobio e diceva ma guardate se voi prendete nel dibattito attuale quello che sentiamo ogni giorno e sostituite la parola mercato con Dio funziona perfettamente tutto. E questa è la sensazione che abbiamo tutti noi qui ma non è una sensazione diffusa, diffusa perché è stato interpretato che il mercato funziona come Dio, decide tutto e sa tutto, sa e onnisciente e onipotente. Allora da questo punto di vista il problema centrale che qui è stato messo in luce più o meno esplicitamente è che noi ci troviamo di fronte a un mondo in cui ci dicono non ci sono alternative. Quello che sbilanciamoci come tanti altri che stanno riflettendo in maniera non ortodossa è che l'alternativa c'è, che l'alternativa ci può essere. Ma è un'alternativa che deve sfondare a livello culturale, a livello mediatico, a livello sfruttando le riflessioni che ci sono già nei movimenti che però purtroppo noi sappiamo sono limitati e sono dispersi. Allora l'idea di avere come sfondo l'Europa è nient'altro che dire guardate tutti i movimenti che ci sono, tutte le forze in attivo che pensano in maniera critica all'esistente, devono confrontarsi con un quadro unico. Non sono i loro piccoli pezzetti ma i loro piccoli pezzetti stanno dentro un quadro più generale e questo quadro generale pone dei vincoli ma non li pone in maniera così netta da non lasciare alternative. Dentro i vincoli c'è spazio per fare storia e però questo è un lavoraccio, un lavoraccio duro. Ricordo che sbilanciamoci un anno e mezzo fa ha avviato questa riflessione collettiva sulla rotta d'Europa. Nessuno parlava, aveva questa sensazione che l'Europa fosse un punto centrale, non stava nel dibattito comune. Eppure è venuto fuori e direi io non mi dilungo perché molti di questi temi verranno nelle sedute già da oggi in poi, da questo forice in poi. E quindi là molte cose che non le riprendo qui perché sono oggetto. Però la sensazione è che ci può essere un'alternativa e che questa alternativa va in qualche maniera perseguita con volontà e con capacità. Credo che sia il messaggio che noi abbiamo fin dal titolo di questo incontro. Però io a questo punto vorrei fare un passo indietro, rispondere in qualche maniera alla domanda euro o non euro. Purtroppo dovrò fare riferimento ad alcune, forse la mia deformazione professionale, di vedere le cose più analiticamente che emotivamente. Però non sono fuori dalle richieste emotive che sono emerse qui, che poi la richiesta emotiva è come fare democrazia in questa fase storica. E siccome ritengo che questa non è una fase di crisi, di crisi congiunturale, ma è una fase di transizione da modelli sociali, non economici, solo sociali, diversi. Siamo in una fase di transizione e in questa fase di transizione che sarà lunga. Non si risolve in un anno quando questi ci dicono c'è la luce alla fine del tunnel e ci prendono in giro. Il tunnel è lungo, ma il tunnel non ha un'unica uscita. Il tunnel può avere uscite diverse e le uscite diverse si misurano a mio avviso in termini di democrazia. Ma dobbiamo capire cosa è in gioco oggi. Allora, da questo punto di vista, io partirei da un punto che probabilmente ognuno di voi, in questi dibatti degli ultimi tempi, è stato molto evidente a livello di informazione quotidiana. Draghi propone, a un certo punto, dopo lungo periodo, propone di un intervento a favore dell'euro. La speculazione, sappiamo, da parecchio tempo, preme sulla scusa dei bilanci pubblici più o meno in dissesto, preme per mettere in difficoltà i paesi più deboli, finanziariamente più deboli. E propone appunto di intervenire, di intervenire in maniera illimitata contro la speculazione. Ovviamente la speculazione è vincente fino a che sa che può condurre il gioco. Se qualcuno gli dice, tu gioca e io ti do corda, poi alla fine chi guadagna e chi perde ci accorgeremo, ovviamente il rischio per la speculazione cresce. Quanto più puoi scommettere che tu resisti, e quindi qui il termine illimitati interventi della Banca Centrale, tanto più la speculazione rischia, tanto più rinuncia rischio. Cioè non corre rischi, perché lì vogliono fare soldi, ma se tu compri a ribasso, e poi il ribasso non avviene, tu hai speso e non ci guadagna. Allora, è una cosa molto semplice, è una cosa che è ovvio. Il problema è che fino a che tu stai nell'incertezza, la speculazione gioca, è favorevolente. A lui questa proposta l'ha avanzata, come sapete, un mese fa circa, poi si è fermato tutto e l'ha ripresa ultimamente. L'ha ripresa ultimamente, probabilmente dopo aver trovato un accordo con la Bundesbank. E qui tutto bene, avete visto che gli spread calano, quindi ha costruito, la Banca Centrale ha cambiato conotati, non è più la Banca Centrale della costruzione iniziale, è diversa, perché ha strumenti di politica diversi. È un problema tecnico, non ci interessa più di tanto. Però è cambiato il connotato e quindi rappresenta in qualche maniera quella difesa dell'euro, diciamo molto semplicemente. È una difesa efficace, in qualche maniera che può essere efficace. Però stiamo attenti. In questo nuovo modello, qual è l'elemento nuovo che emerge? E che significato ha? Voi vi ricordate quando Draghi ha detto sì, adesso abbiamo uno strumento per difendere l'euro e i paesi che sono in difficoltà, potremo acquistare i titoli illimitatamente, ha detto però noi interveremo quando? Quando i paesi, la condizionalità, quando i paesi chiederanno l'aiuto e sottoscriveranno le regole che si danno per correggere i propri squilibri. State attenti, un altro elemento, chiediamo il monitoraggio anche del Fondo Monetario Internazionale. Allora, che cosa succede? E perché Spagna e Italia dicono continuamente noi non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno? Perché nel momento in cui, intanzitutto perché ovviamente ogni paese non vuole sottoscrivere quelle condizioni che si possono immaginare perché sono molto restitive, ma immaginate cosa succede che improvvisamente qualche paese abbia bisogno e non voglia sottoscrivere questi memorandum, queste condizioni che riguardano non solo i governi attuali ma riguardano anche i governi futuri perché è un impegno del paese nei confronti del... e che quindi va trasferito anche ai prossimi governi e non lo voglia sottoscrivere. Cosa pensate che succeda alla speculazione? La speculazione sa che lui non vuole sottoscrivere e che quindi la Banca Centrale non interviene e quindi è un paese libero alle scorribande. Quindi in qualche maniera Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario, l'ESF, SS, SM, questi fondi salva stati, hanno un potere quasi di rubinetto per la speculazione. Però a questo punto dice ma che cosa impedisce a sottoscrivere questi memorandum? Allora, e qui arriviamo ai punti cruciali. Il tipo di intervento o di accordo o di decisione di assumersi gioca su due terreni. Si sottoscrive, ma quella è la politica che abbiamo visto finora del governo Monti, eccetera, risanamento del bilancio pubblico, attraverso talvi, quelli che abbiamo visto che non sono talvi in qualche maniera giustificata, e riforme strutturali, che quello che abbiamo visto finora è stata la riforma del mercato del lavoro, privatizzazione. Quindi questo lo sapete benissimo. Ora, una stretta su questo significa stringere su questi due livelli. Ma questa è la visione di politica economica europea. Quando prima accennava Stefano che un voto contrario alla Costituzione europea, è perché era infarcita di queste cose. Era infarcita di regole costituzionali sulla gestione della politica economica, sulla concezione di come doveva essere strutturata l'assetto economico del Paese. Noi partivamo da una Costituzione che è strutturata in maniera diversa, una Costituzione che parte dal lavoro, e su quello costituisse le istituzioni. Lì partiva, e qui è il salto tra gli anni 70, 80, 90, è il salto a costituire una visione delle relazioni sociali, delle relazioni economiche, centrate sostanzialmente su regole di mercato, privilegiando le regole di mercato. E' lì che è stata la grande dramma per chi voleva Europa e la voleva un'Europa strutturata in maniera diversa, non sapeva se votare per la Costituzione o contro la Costituzione. Non era quindi un problema essere europeisti o non europeisti, ma era un problema di quale Europa è costituire. Però se noi andiamo a guardare perché l'Europa ha questo atteggiamento di politica economica, è un fatto culturale da un lato, cioè la convinzione che l'economia in qualche maniera è l'ossatura della società e la società si deve adeguare all'economia. Questo è l'elemento, come direi, cruciale. Lo vedremo, ne torno fra un attimo, ma voglio semplicemente accennare a questo perché questa concezione è una concezione che fa a puni con la democrazia, fa a puni con quella situazione che, permettetemi il termine, che è che il capitalismo è democrazia con visioni universali e, come direi, è sistematica, è una contraddizione sistematica perché da un lato noi abbiamo una visione della democrazia come estensione dei diritti universali, diritti per uguali, per tutti, ma l'economia che noi osserviamo è un meccanismo che differenzia